Una serie di incontri il cui obiettivo è la definizione di strategie di sviluppo a sostenibilità molto forte per l'incremento e sviluppo del capitale naturale attraverso l'applicazione di modelli economici alternativi. Tutto questo è BiPlanet, il progetto presentato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri. L'8 settembre a Sulmona è in programma il primo appuntamento. Un progetto con il quale cerchiamo di portare in Abruzzo una cultura economica che non sia la cultura economica mainstream. Ha delle fasi non successive, una è uno speech, quello che stiamo portando in giro, che costruisca la cultura di una nuova economia, un nuovo modo di fare economia con nuove domande e un nuovo approccio che costruisca vantaggi per tutti e poi c'è la costruzione di una comunità online fatta attraverso i social, attraverso un piccolo sito e a valle di questo la costruzione di una comunità che sia capace di portare sul territorio delle soluzioni e delle proposte nuove connesse con quelle che sono le risorse locali. Lavoreremo come un gruppo, come una comunità capace di affrontare dei problemi, capace di interrogarsi su delle problematiche sia di grande rilievo sia delle problematiche locali da un punto di vista che non sia quello della supply chain ovvero del business come si fa adesso, produco il più possibile, produco i costi più bassi possibile, guadagno il più possibile, arrivo sul mercato con tantissimi prodotti che costino meno possibile, però questi prodotti non hanno un vero valore, non soddisfano bisogni reali, quello che noi vogliamo fare è soddisfare i bisogni reali e farci domande nuove, cioè come faccio a costruire valore per le persone, non come faccio a costruire valore per chi fa imprese.